Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Rioveggio e Aglio. Per traffico congestionato 10 km di coda in diminuzione tra Firenze Imprunita e Barberino in direzione Bologna. In direzione Roma per lavori 2 km di coda tra Barberino e Calenzano. Rallentamenti tra Valdarno e Arezzo e tra Valdichiana e Fabbro. Sulla A11 per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla FIPILI per lavori ci sono code tra Empoli e Montelupo in direzione Firenze e rallentamenti tra Montelupo ed Empoli Est in direzione Mare. Per traffico intenso code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!